Ok, a questo punto credo che si sia in diretta, quindi si potrebbe cominciare. Aspettavo l'ok da Simone. Ok, siamo in diretta, bene? Allora direi di cominciare. Bene. Allora, buonasera, siamo al secondo appuntamento della rassegna organizzata da 13 ampi del territorio impolese e pisano fiorentino, diciamo. Il calendario poi proseguirà con le prossime iniziative che comunicheremo quando avremo poi con precisione le date e di seguire questa pagina Facebook La Storia per Tutti e il canale YouTube omonimo, dove troverete poi gli eventi, saranno registrati e saranno poi disponibili successivamente. Alla fine anche di questo intervento come la volta scorsa, speriamo ci sia qualche intervento del pubblico, qualche domanda a cui il professore risponderà. Speriamo poi per un futuro che si possa realizzare qualcosa in presenza, ma siccome non voglio portare male, evito di dirlo ancora una volta. Quindi ringrazio ancora una volta tutti i compagni dell'AMP, in particolare Simone Ricotta, che è il vero deus e smacchina di tutta questa organizzazione. E soprattutto ringrazio stasera il professor Ioze Pirevez, che ringraziamo davvero per la disponibilità con cui ha accorto il nostro invito. Noi siamo dei rompiscatole e lui ha veramente accorto, noi siamo veramente contenti. Con i professori avevamo in ponte, in sospeso, l'iniziativa di stasera nel 2020, poi entrammo in piena pandemia e da cui non siamo ancora usciti. Noi si sperava di essere usciti a questa situazione, ma in realtà se ci siamo ancora nel mezzo. Ci fa particolarmente piacere comunque essere usciti a avere, anche se non in presenza il professore, perché è uno dei massimi conoscitori della storia dell'ex Jugoslavia e autore di tantissime opere storiche molto importanti. È stato professore universitario in varie università, se ne parlava prima anche a Pisa, a Trieste, a Padova e quindi è una persona, diciamo, degli storici più quotati e più importanti. Ricordo gli ultimi volumi, magari poi andate a ricercare anche la biografia completa perché è molto importante. Uno degli ultimi lavori del professore è una biografia di Tito, molto importante, uscita per Einaudi, è veramente interessante e qualche anno prima era uscito, diciamo, quello che è la ricostruzione più completa della vicenda delle Foibe, Foibe è una storia d'Italia, sempre per Einaudi, uscita nel 2009. E voglio rammentare anche un altro libro molto importante perché è uscito ancora qualche anno prima, nel 2001, Le guerre Jugoslavia, appunto dedicate alle guerre civili nell'ex Jugoslavia, è veramente un libro completo e importante. Prima di passare la parola al professore, volevo citare una frase di Enzo Collotti che lo stesso professore riporta nel libro Foibe perché secondo me è importante per l'iniziativa di stasera e per le iniziative che facciamo noi e per, diciamo, l'approccio alla storia che dovrebbe essere quello, diciamo, corretto e che raccomandiamo. Collotti diceva nella storia non vi sono scorciatoie per amputare frammenti di verità, mezze verità estrendoli da un complesso di eventi in cui si intricciano le ragioni e le sofferenze di molti soggetti. Al singolo, vittima di eventi più grandi di lui, può anche non importare capire l'origine delle sue disgrazie, ma chi fa responsabilmente il mestiere di politico o anche più modestamente quello dell'educatore, deve avere consapevolezza dei messaggi che trasmette, deve sapere che cosa significa trasmettere un messaggio dimezzato e unilaterale. Quindi io a questo punto passo subito la parola al professore, diciamo, a cui lascio il compito in questo spazio di tempo che abbiamo di ricostruire questa vicenda estremamente complessa e anche poco conosciuta, malgrado se ne parli tantissimo negli ultimi, diciamo, 15 anni. Grazie, un cordiale saluto a tutti i compagni e se mi permettete, fra i volumi che Veloci ha citato, vorrei menzionare proprio l'ultimissimo, cioè questo qua, i partigiani, che è stato pubblicato l'anno scorso, per il momento solo in Zorveno e di cui sono molto fiero, vedete anche l'ampiezza del lavoro, mi è costato parecchio, parecchio impianto. Aspettiamo una traduzione in italiano allora. Spero di sì, speriamo che in Audi si decida. Se mi permettete, io vi racconto un po' come sono arrivato alle forme. Quando ero studente alla scuola normale di Pisa, a un certo momento il professor Saita, che era appunto il mio docente, mi chiede, ma lei per la tesi di laurea che cosa vuole fare? E io gli dico, ma ha qualcosa su Trieste e lui risponde, ma guardi, voi triestini, quando cominciate a studiare la storia di Trieste non la finite più. Lei che conosce anche le lingue faccia qualcosa di diverso e devo dire che a Saita sono ancora molto molto grato perché in qualche maniera sono fuggito da Trieste, ma ovviamente non del tutto. Infatti fra i libri che ho scritto è anche il libro sulle foibe, prima menzionato, che è nato, direi, per un caso piuttosto insolito. ero ad Ancona, proprio intorno al 10 febbraio, ormai 15 anni fa, anche di più, e nel tornare leggo sul resto del Carlino un articolo sul discorso che il presidente napoletano tenne al Quirinale per il 10 febbraio. E devo dire che sono rimasto amaramente sorpreso perché appunto conoscevo e apprezzavo Napoletano come politico, come rappresentante importante del Partito Comunista Italiano, sapevo dei suoi legami con la Jugoslavia, ma in quel discorso ha assunto un atteggiamento francamente nazionalista. Ero talmente arrabbiato che mi sono deciso di fare qualcosa, di appunto andare a ricercare negli archivi per dire tutta la verità sulle foibe. E così è nato appunto il libro di cui abbiamo parlato. Ora, le foibe si inseriscono ovviamente in un discorso molto vasto che riguarda i rapporti etnici fra italiani e slavi nella zona dell'Alto Adriatico. Queste due etnie vivevano praticamente una accanto all'altra per secoli, senza conflitti interni, anche perché appunto in passato il problema nazionale non era presente. Quando invece questo problema assume una dimensione politica, e siamo nel 1800, soprattutto dopo il 1848, dopo la rivoluzione del 1848, appunto le cose cambiano. Cambiano a mio avviso soprattutto perché c'è un gap, una distanza fondamentale tra la popolazione italiana e la popolazione slava, cioè slovena e croata, di queste zone di cui parlo. Mentre gli italiani vivevano per lo più in città, erano borghesi, erano piuttosto, molti erano piuttosto benestanti, anche colti. Gli slavi vivevano in Campania, erano contadini, spesso dipendenti coloni praticamente dai padroni italiani e guardati da questi in certo qual modo dall'alto in basso, perché effettivamente erano meno sviluppati di loro. Quando però appunto questi slavi cominciano, già nel 1848, ma ancora più dopo questa data, cominciano a organizzarsi anche politicamente e chiedere diritti politici, da un momento all'altro diventano estremamente pericolosi, perché cercano appunto di distruggere quel equilibrio che si è formato attraverso i secoli, in cui appunto i padroni erano coloro che parlavano l'italiano o il veneto e i servi erano gli slavi. Da qui nasce un conflitto direi etnico-politico che è molto molto grave ed intenso e che continua praticamente fino alla prima guerra mondiale senza violenze. Praticamente di violenze ne abbiamo pochissime, veramente si possono contare sulle dita di una mano anche di meno, però la violenza verbale era piuttosto intensa, soprattutto appunto da parte italiana che era più colta, più articolata, aveva anche più mezzi a disposizione per esprimere il proprio pensiero e per cui si crea una situazione di odio etnico veramente molto intensa. Questo odio etnico è fomentato soprattutto dagli irredentisti. Chi sono gli irredentisti? gli irredentisti sono appunto esponenti della borghesia, soprattutto a Trieste, ma anche in Istria, che cercano di conservare il potere e per questa ragione si oppongono appunto a questo rinascimento slavo che si manifesta, guardando appunto all'Italia. L'Italia unita per questi borghesi diventa molto attraente. Da questo punto di vista vorrei sottolineare l'importanza della comunità ebraica di Trieste. A Trieste c'è appunto, in quel periodo, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, si forma una comunità ebraica piuttosto forte, ricca, sviluppata, italianizzata, che vede in Italia praticamente un'alternativa molto attraente rispetto all'Austria. Mentre l'Austria cattolica, antisemita, era in qualche maniera, aveva un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli ebrei, l'Italia liberale, l'Italia che era in conflitto con il Papa, invece la comunità ebraica in qualche la favoriva, anche perché era una comunità molto modesta. Mentre in Austria avevamo milioni di ebrei, in Italia ce n'erano 50.000 al massimo. Per cui appunto l'antisemitismo praticamente in Italia non esisteva. Da qui appunto questa strana situazione che i portatori dell'idea irredentista, dell'idea italiana a Trieste, meno in Istria, ma soprattutto a Trieste sono gli ebrei. Le cose diventano incandescenti prima della prima guerra mondiale, prima dello scopo della prima guerra mondiale, perché si creano in quel momento tre progetti politici per quanto riguarda Trieste. Mentre appunto gli regentisti vogliono fare, annettere Trieste all'Italia e farne un trampolino di lancio per l'imperialismo italiano nei Balcani, gli slavi pensano invece ad una futura Jugoslavia, una Jugoslavia diversa di quella che è stata creata dopo la guerra. Una Jugoslavia sempre inserita nell'ambito della monarchia absburgica, che era già doppia come voi sapete, la monarchia absburgica era austro-ungherese. Adesso volevano appunto aggiungere a questa doppia entità ancora una terza entità che dovrebbe essere appunto la Jugoslavia. La Jugoslavia avrebbe dovuto avere tre centri importanti, Zagabria, Ljubljana e Trieste. Trieste sarebbe diventata praticamente una specie di sbocco verso il mare di questa entità statale. E poi c'è il terzo progetto, quello che mi sembra il più sensato, ma non è stato realizzato, cioè di Trieste città d'incontro fra le etnie, un progetto sostenuto soprattutto dalla socialdemocrazia, tanto italiana quanto slovena. Cioè un Trieste, una città aperta e una città in cui le diverse etnie si incontrano e si arricchiscono a vicenda. Naturalmente tutte queste cose, tutti questi progetti cadono praticamente nel nulla quando, dopo il 1918, la monarchia ausburgica scompare. E l'Italia in quel momento si presenta come vincitrice. L'Italia è entrata in guerra nel 1915 dopo un pato segreto con le potenze dell'Intesa, c'è con la Gran Bretagna, la Francia e la Russia, che hanno promesso appunto all'Italia un allargamento territoriale molto notevole delle frontiere strategiche sulle Alpi, cioè tutto l'Alto Adice, e altrettanto frontiere strategiche sullo spaltiacque in Slovenia, nonché l'Istria e una buona parte della Dalmazia centrale. Queste idee, questa richiesta dell'Italia però vennero contestate da una realtà completamente nuova che si è creata dopo il 1918. Cioè, in quel momento l'Austria scompare, quando l'Italia è entrata in guerra, pensava che l'Austria sarebbe stata soltanto respinta verso l'interno, ma non scomparsa. Invece l'Italia non esiste più, scusate, l'Austria, l'Austria-Ungheria non esiste più e dall'altra parte dell'Adriatico si crea uno stato nuovo, cioè lo stato, il regno dei serbi, croati e sloveni, la futura Jugoslavia. Per l'Italia è uno shock, tant'è vero, anche perché alla fin fine questa Jugoslavia ha il sostegno dei francesi, ma soprattutto del presidente Wilson. Da qui nasce appunto lo slogan della vittoria mutilata, nasce il conflitto per la futura frontiera fra appunto l'Italia e la Jugoslavia. Questo conflitto diplomatico naturalmente si risolve appena nel novembre del 1920 come l'Italia riesce ad ottenere quasi tutto quello che voleva, cioè una buona parte dell'entroterra triestino che è popolato da circa 350.000 sloveni, l'Istria, più tardi nel 1924 anche fiume, invece rinuncia alla Dalmazia. Sembra che in qualche maniera questo accordo potesse durare, se non che già verso la fine degli anni 20 e ancora di più negli anni 30 Mussolini assume un atteggiamento sempre più bellicoso nei confronti appunto della Jugoslavia. Mussolini come voi sapete imposta in quel momento una politica estera napoleonica, vuole creare vuole creare l'impero e si trova però nei Balcani un concorrente molto pericoloso, cioè i tedeschi. Da una parte si sente attratto dai tedeschi, come voi sapete entra in alleanza con Hitler, ma d'altro canto è anche un suo concorrente. La Germania acquista una posizione economica nei Balcani molto forte. Invece l'Italia cerca in qualche maniera di inserirsi nel gioco, per esempio come? Tra l'altro nel occupare l'Albania e sperare di poter allargarsi anche in direzione della Jugoslavia. E questo succede, questo effettivamente succede quando il 6 aprile del 1941 l'Italia, anzi la Germania, il Terzo Reich, l'Italia, l'Ungheria e la Bulgaria invadono senza dichiarazione di guerra. Il regno jugoslavo, che non è pronto alla lotta, è scisso internamente da conflitti etnici intensissimi, soprattutto fra serbi e croati e praticamente questo esercito reggio crolla nel giro di dieci giorni. La Jugoslavia scompare. Il regno, il re, il giovanissimo re, appena diciassettene, Pietro II fugge all'estero, con lui anche il governo. Il paese viene occupato praticamente senza colpo ferire dalle truppe tedesche, italiane, bulgare, ungheresi e smembrati. E sembrava, da un punto di vista italiano, sembrava che finalmente la vittoria mutilata non fosse più mutilata. Che finalmente l'Italia aveva ricevuto tutto quello che voleva, anzi aveva la possibilità di allargarsi ancora. Il Montenegro sarebbe diventato, secondo i piani, un regno dipendente dall'Italia. Lo Stato indipendente croato che è stato istituito il 10 aprile del 1941 sarebbe stato uno Stato vassalo italiano. Per cui sembrava che effettivamente questi progetti imperiali si fossero attuati e che le popolazioni dominate non avrebbero offerte resistenza. Invece così non fu. Anzi, si creavano addirittura due resistenze. Da una parte abbiamo la resistenza dei cetnesi, i serbi, guidati da Draja Mihailovic, dall'altra parte conservatori che vogliono appunto richiamare il re sul trono, vogliono riportare, ricostituire la vecchia Jugoslavia. E dall'altra parte ci sono i comunisti. I comunisti che sono guidati da un uomo formidabile, Joseph Bostit, un uomo carismatico di grandi capacità di leadership. Io nel studiare Tito devo dire che sono diventato, per quanto riguarda la sua tarda età, piuttosto critico nei suoi confronti. Però durante la seconda guerra mondiale Tito ha dimostrato veramente una capacità di guida del paese e anche una capacità strategica assolutamente notevole, per non dire delle capacità politiche e diplomatiche. Il fatto sta che abbiamo appunto questo movimento di resistenza che si allarga a tutto il paese. È un movimento molto complesso perché appunto le realtà della Jugoslavia sono talmente varie. Una cosa è per esempio la resistenza in Slovenia, un'altra cosa è la resistenza in Serbia o in Croazia o in Dalmassia o da qualsiasi altra parte. Ma nonostante questo i comunisti riescono ad impostare una guerriglia che poi si evolve in un esercito vero e proprio, uno dei più forti eserciti esistenti in Europa in quel momento. Alla fine della guerra Tito aveva sotto le armi circa 800.000 uomini, che riesce a trovare per ragioni strategiche appoggi anche dai britannici, prima da Churchill e poi nel 1944 anche da Stalin. Stalin per quanto riguarda la sua posizione nei confronti appunto della resistenza a Jugoslavia è piuttosto prudente. E lì non vuole apparire come un sostenitore della rivoluzione in Jugoslavia, agli occhi soprattutto degli alleati occidentali, per cui appunto per molto tempo è piuttosto riservato nei confronti della resistenza a Jugoslavia. Ma a partire dal 1944, invece, quando le cose ormai sono evidenti, la vittoria alleata e chiara, la sconfitta di Hitler anche, allora da quel momento in poi punta anche lui sugli Jugoslavi e li appoggia in maniera decisiva. Tant'è vero che nell'ottobre del 1944 l'armata rossa entra in Serbia, riesce in pochi giorni a sgominare i tedeschi e con l'aiuto dei partigiani il 20 ottobre del 1920 e quindi appunto Belgrado, la capitale della Serbia e la capitale dell'Eugoslavia, viene appunto liberata. E i comunisti prendono il potere. E qui si presenta naturalmente una situazione completamente nuova che riguarda moltissimo l'Italia perché questa nuova Jugoslavia chiede e vuole frontiere diverse, non più la frontiera di Rapallo, ma una frontiera etnicamente più giusta, più corretta, pensando anche a Trieste. Ma prima di continuare in questa direzione devo fare un passo indietro e parlarvi di quello che è successo per quanto riguarda le foibe, di quello che è successo in Istria dopo la scomparsa, dopo l'armistizio italiano dell'8 settembre del 1943. Come sappiamo, come abbiamo detto, l'Istria è inserita nel regno d'Italia, è un paese poverissimo. Pensate che l'Istria veniva subito dopo Calabria per quanto riguarda appunto il tenore di vita della popolazione. Il fascismo istriano è piuttosto aggressivo nei confronti degli slavi. A proposito, bisogna anche menzionare che il fascismo assume in queste zone, queste parti, in queste regioni di frontiera un aspetto particolare. Infatti si parla di fascismo di frontiera. Perché? Perché sicuramente il fascismo non è come il Toscano. Da noi il fascismo è strettamente legato al nazionalismo e all'odio antislamico. Da qui appunto, come dicevo, continuano quelle conflittualità etniche di cui parlavo prima, naturalmente represse dalle autorità fasciste, ma che covano sotto le ceneri, e quando, da un momento all'altro, l'Italia scompare. Immaginate, la struttura statale italiana praticamente svanisce. L'esercito crolla. La polizia non c'è più. Praticamente i leader fascisti più importanti, i capi fascisti più importanti, fuggono. Rimangono in Istria soltanto i capoccia, per così dire, che però sono mal visti dalla popolazione. e in quel momento appunto siamo verso la metà del mese, metà di settembre del 1943, scoppia la violenza contro appunto queste persone. È interessante che nonostante appunto lo sfaccello dell'esercito italiano, in altre parti della Jugoslavia la gente non si vendica dei soldati italiani. Non abbiamo praticamente nessun esempio di violenza nei confronti di questi soldati che vengono addirittura aiutati. Gli danno per esempio vestiti civili per tornare a casa. Molti si associano alle forze partigiane, soprattutto per esempio nel Montenegro e in genere in quelle parti lì. Ma comunque altrove appunto questo astio nei confronti degli italiani non esiste. Per quanto gli italiani devo dire e i soldati italiani non erano molto migliori dei soldati tedeschi. Molto spesso si sono macchiati di grandi atrocità. Non erano così organizzati come i tedeschi, non erano così strumentalizzati forse, non erano sicuramente così fanatici come i tedeschi, però le atrocità ci sono state e parecchie. Tuttavia gli italiani vengono accolti se vogliono aderire alla lotta partigiana vengono accolti appunto fra i partigiani. In Istria la situazione è diversa. Qui invece scoppia appunto questa questa questo aschio questo odio etnico che però è anche odio sociale che si manifesta in maniera spontanea ma molto virulenta. non è che abbracci molte persone si calcola che coloro che furono in qualche maniera imprigionati o assassinati si agirono fra 600 e 400 persone però appunto è senz'altro un movimento di rabbia popolare poco organizzato perché anche in Istria per dire la verità la presenza particiana era estremamente debole dunque poco organizzato ma violento che finisce con l'uccisione di queste persone che vengono appunto gettate nelle cosiddette foibe che cosa sono le foibe la parola è di origine latina mi pare che in latino si dice fabia o qualcosa di simile è una le foibe sono in genere delle cavità calciche il calcio è pieno di queste cavità però accanto a queste ci sono anche dei scavi minerali in quel periodo per esempio in Istria si si produceva ancora il carbone il carbone era piuttosto piuttosto cioè la ricerca e lo scavo del carbone era piuttosto diffuso per cui in queste cavità vengono gettati i corpi di questi borghesi sono piccola gente qualche farmacista qualche 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 diciamo qualche medico qualche possessore terriero niente di particolare però appunto agli occhi della piccola gente della plebe essi venivano visti come rappresentanti del fascismo italiano e ancora di più direi come i rappresentanti di una borghesia che per secoli e secoli aveva dominato appunto il paese queste forbe istriane durano pochissimo praticamente 14 giorni perché già all'inizio di ottobre le truppe della Wehrmacht cioè le truppe tedesche occupano l'Istria fanno un macello ci sono circa 5.000 morti deportano ad Auschwitz e in altri lager in Germania migliaia di persone impongono i tedeschi il proprio potere aiutandosi anche dei fascisti che si alleano subito con loro e tra l'altro cominciano a sfruttare le foibre ai fini di propaganda comunista e partigiana non dobbiamo dimenticare che i tedeschi proprio in quel momento poco prima avevano scoperto le forze di Katyn in Ucraina dove come voi sapete Stalin aveva fatto fucilare migliaia di soldati polacchi e i tedeschi hanno usato questo mezzo di propaganda in maniera molto decisa era era una propaganda estremamente pericolosa tant'è vero tant'è vero che Churchill per esempio cercava di ignorare gli inglesi per molto tempo facevano finta di non credere alla versione alla verità tedesca ora qualcosa di simile i tedeschi la fanno anche dalle nostre parti cercando di creare una specie di piccole zone piccole forze di Katyn le foive i colpi vengono esumati vengono mostrati alla popolazione in disfacimento voi come potete immaginare si fanno si fanno delle si si creano delle celebrazioni funerarie messe tutta una serie di attività al fine di dimostrare che i comunisti sono barbari che sono pericolosi che bisogna assolutamente associarsi ai nazisti per appunto per difendersi da queste bestie partiziane e slave ovviamente un anno e mezzo più tardi cioè alla fine di aprile del 1945 le truppe partigiane e precisamente la quarta armata dell'esercito partigiano si spinge dalla Bosnia Erzegovina lungo la costa fino a fiume e poi fino a Trieste e Goizia arrivando fino a Lisonzo il primo maggio di quell'anno arrivando lì e con l'intenzione di restare cioè da un punto di vista jugoslavo la frontiera corretta giusta l'unica giusta era sull'isonza gli jugoslavi sapevano benissimo che Trieste è una città popolata in maggioranza dall'italiano ma dicevano questa questa città che per l'Italia ha poca importanza per noi invece è fondamentale è inserita completamente nell'ambito slavo per cui è giusto e corretto che sia appunto anessa alla futura jugoslavia quando arrivano le truppe della quarta armata a Trieste e a Gorizia ovviamente trovano in città non i tedeschi i tedeschi sono fuggiti era combattuto sul calcio per bloccare i partigiani senza successo ma trovano tanti fascisti tanti fascisti che avevano collaborato intensamente collaborato con i tedeschi durante il cosiddetto periodo dell'Adriatis voi sapete che appunto i tedeschi avevano creato nell'ambito dell'Alto Adriatico una zona d'operazioni particolare che si diceva appunto veniva detta litorale Adriatico non era inserita nella Repubblica di Salò ma era amministrata direttamente dalla Wehrmacht e dalle autorità civili appunto tedesche tra l'altro i tedeschi a Trieste crearono l'unico centro l'unico lager centro di raccolta e di detenzione ma anche di annientamento non soltanto dei partigiani ma anche degli ebrei la famosa risiera ora come dicevo i tedeschi i tedeschi se ne sono andati sono sconfitti i partigiani occupano questa città e e cominciano a dare la caccia ai ai fascisti ma non soltanto ai fascisti a tutti a tutti coloro che in qualche maniera si oppongono all'idea di un'annessione di queste terre alla Jugoslavia e così nasce di nuovo una violenza piuttosto grave molti vengono deportati quando naturalmente si parla di cifre bisogna stare attenti e generalmente in Italia si tende ad esagerare quello che ha esagerato di più era il ministro Gasparri uno dei ministri di Berlusconi il quale durante una trasmissione televisiva disse che addirittura un milione di persone fossero state appunto gettate nelle forme non è assolutamente vero in genere naturalmente è estremamente difficile fare dei calcoli però in genere si pensa che fra Trieste e Gorizia le vittime cioè coloro che persero la vita non superassero c'è un mila e cinquecento qualcosa di simile più erano coloro che che erano arrestati poi molti naturalmente anche piuttosto in fretta liberati alti deportati all'interno della Slovenia dove si trovarono in condizioni terribili di prigionia terribili molti morirono anche lì per stenti per alcuni anche fucilati comunque circa 600 persone a Trieste e 600 persone a Gorizia furono effettivamente fucilate sul posto senza grandi processi e gettate nelle foibre una di queste è la foibra di Basovissa che di nuovo non è una caverna carsica ma era uno scavo che alla ricerca del carbone che però non è stato trovato per cui praticamente è stato abbandonato e così abbiamo appunto questo secondo episodio di vendetta che si include nella realtà del tempo dal nostro punto di vista ovviamente dopo tanti anni e questa 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 vendetta questa questa volontà di vendicarsi è difficilmente accettabile infatti il reino non è accettabile però bisogna inserire il tutto in un in una visione storica capire che dopo la guerra lì dove c'è stata resistenza c'è stata anche violenza era estremamente difficile anzi impossibile sfuggire alle atrocità della seconda guerra mondiale e sapere essere corretti e giusti nel momento della vittoria in Jugoslavia come voi probabilmente sapete le cose andarono ancora peggio i partigiani purtroppo assassinarono migliaia e migliaia di persone che avevano collaborato con i tedeschi e prima ancora con gli italiani è un episodio grave io finisco appunto il mio libro sui partigiani proprio su questa con questa vicenda e dico ma è possibile che queste violenze abbiano macchiato la lotta partigiana in qualche maniera l'hanno macchiata ma la lotta partigiana è stata un'altra cosa la lotta partigiana è stata lotta per la libertà contro il fascismo contro il nazismo con una con uno slancio soprattutto della piccola gente che era incredibile che ha accettato sofferenze pesantissime che però si è conclusa con questo capitolo sanguinoso dovuto non alle masse popolari la gente praticamente sapeva poco quello che accadeva e poteva decidere pochissimo coloro che in qualche maniera decidevano erano i capi soprattutto Tito e i suoi più stretti collaboratori non però per quanto riguarda le foibe le foibe erano un fatto a limite marginale dovuto piuttosto alla situazione locale dove i servizi segreti i jugoslavi presero praticamente il potere anche con l'aiuto dell'esercito e dove appunto si manifesta questa 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 vendetta nei confronti degli italiani a mio avviso minore di quella che è successa per esempio in in Piemonte oppure nel triangolo rosso comunque grave soprattutto perché è una vendetta segnata dal conflitto etnico mentre se se le se le vittime essendo italiane fossero state uccise uccise dai italiani probabilmente oggi non ne parleremo invece che invece dato che però le vittime sono state uccise dai partigiani ne parliamo ancora sono ancora un tema scottante sono state un tema scottante naturalmente per tutto il dopoguerra in genere in Italia si dice le foibe sono state dimenticate sono state in qualche maniera rimosse non si voleva parlare delle foibe in verità a Trieste si è parlato delle foibe sempre che cosa è successo però dopo il coro della Jugoslavia e la nascita di queste piccole repubbliche autonome come sono la Slovenia e la Croazia che hanno cambiato completamente i rapporti di forza ovviamente e hanno suggerito alla classe dirigente italiana non soltanto a quella di destra ma anche alla sinistra di riassumare il problema delle foibe per compattare il popolo italiano in una mente di gravissima crisi non dobbiamo dimenticare che siamo nel momento in cui scompare il vecchio sistema dei partiti il partito socialista italiano crolla la democrazia cristiana crolla il partito comunista scompare ed ecco che in questa situazione le foibe vengono usate e sfruttate per per fomentare il nazionalismo italiano e diventano un fattore importante nel discorso politico di quegli anni tant'è vero che 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 vengono in qualche maniera istituzionalizzate il nel 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 2004 il parlamento decide di di istituire la giornata della memoria per il 10 febbraio del di ogni anno non dobbiamo dimenticare che il 10 febbraio è una data simbolica il 10 febbraio l'Italia del 1947 l'Italia ha firmato il trattato di pace di Parigi con questo trattato di pace è vero ha perso una buona parte dei territori acquistati dopo la prima guerra mondiale però è tornata come uguale nell'ambito della società delle nazioni il 10 febbraio non dovrebbe essere un giorno di dolore ma dovrebbe essere il giorno in cui si rammenta appunto il fatto che l'Italia diventa di nuovo capace di inserirsi nel gioco internazionale invece così non è come voi sapete si cerca di sfruttare questa problematica delle foibe in una maniera piuttosto pesante dicevo del discorso di Napoletano ma devo dire che anche i successivi presidenti di Repubblica non è che siano stati migliori da questo punto di vista adesso sto attendendo il discorso di Mattarella di quest'anno sarebbe veramente interessante vedere che cosa succede comunque le foibe sono ancora qui e sono entrate nella coscienza degli italiani io quando vado in Italia e dico di essere di essere sloveno la prima la prima la prima reazione che sento è ah le foibe trovo le 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 stradali dedicate alle le foibe un po' dappertutto in Italia addirittura in Sicilia dove avrebbero ben alti problemi da discutere e da commemorare comunque è una vicenda dolorosa che va esplorata ed è una cosa che vorrei per sottolineare a questo punto è che la 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 giovane storiografia italiana si confronta con il problema delle foibe sempre più in maniera sempre più razionale sempre più critica nei confronti della realtà ufficiale che viene in qualche maniera proclamata tant'è vero che se dubiti di questa realtà ufficiale diventi un negazionista come se dubitassi dall'esistenza delle camere a gas ad Auschwitz dunque c'è questa 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 giovane storiografia questi giovani storici italiani che io veramente devo dire ammiro perché hanno avuto il coraggio di confrontarsi in maniera razionale con il fenomeno delle foibe nel tentativo di inserire il tutto in un discorso in cui appunto tutti siamo colpevoli gli italiani sono colpevoli dell'irdentismo del fascismo di quello che hanno fatto nei Balcani durante la seconda guerra mondiale gli slavi sono colpevoli appunto di queste violenze scoppiate alla fine della guerra grazie grazie davvero professore perché ha fatto una lezione magistralis che secondo me per fortuna l'abbiamo registrata l'abbiamo su youtube perché credo che sarebbe opportuno che diventasse anche una davvero una lezione da far ascoltare perché è importantissimo ricostruire la storia perché la separazione dei vari episodi poi soprattutto di una vicenda non solo come quella legata al rapporto fra italiani e diciamo slavi ma soprattutto la vicenda complessissima del fascismo della seconda guerra mondiale che ha prodotto insomma un numero di morti pari agli abitanti d'Italia attuali quindi è un contesto di estrema violenza una guerra estremamente radicale in cui gli scatenatori della guerra sono il nazionalsocialismo e il fascismo quindi che hanno prodotto una serie di odie che si sono sedimentati è fondamentale questo aspetto parlavamo anche l'altro giorno con 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 Eric consideriamo che tutti i popoli i paesi hanno vissuto la seconda guerra mondiale hanno visto sul loro territorio atrocità anche da parte delle truppe di liberazione penso alla Germania che ha vissuto bombardamenti a tappeto e oppure all'espulsione di milioni di centinaia di miliardi di abitanti di tedeschi dai territori dopo la perdita della seconda guerra mondiale è interessante vedere come sono relazionati questi paesi con la loro storia la Germania dopo la discussione che ci fu alla fine degli anni 70 sulla passato che non passa certamente ecco se gli posso fare una domanda poi spero che ci siano anche questioni da parte di chi ci sta ascoltando la Germania non ha mai pensato di creare un giorno del ricordo per le vittime che pure hanno avuto a milioni perché avrebbe creato sicuramente un problema di relazione con gli altri paesi che sono stati invasi dalla Germania mi sembra Focardi qualche anno fa scherzi questo libro sul cattivo tedesco noi in Italia ci siamo rappresentati e celati dietro il fatto che alla fine era la Germania che conduceva il gioco pesante e noi beh non male ma in realtà come ha detto giustamente lei le atrocità commesse dall'esercito italiano in Jugoslavia non solo che non hanno avuto nemmeno diciamo il seguito di una di una condanna da parte dei tribunali nel secondo dopo guerra è un aspetto che è entrato nella nostra nella nostra purtroppo nel nostro rapporto che abbiamo con la storia del fascismo sì sono assolutamente d'accordo con lei purtroppo l'Italia non ha sento la mia voce dico sono d'accordo con lei perché l'Italia non ha fatto i conti non ha fatto i conti con la propria storia mentre i tedeschi sono stati in questo senso bravi più coraggiosi anche naturalmente spinti diciamo la verità i tedeschi sono stati spinti dagli occidentali mentre gli italiani no l'Italia è stata praticamente una colonia americana secondo me lo è ancora per la verità una colonia americana che è importantissima perché era appunto nel confine con il con il blocco sovietico era una specie di portaerei nel mediterraneo e aveva d'altro canto un fortissimo partito comunista il partito comunista italiano ha avuto un ruolo importante per quanto riguarda l'atteggiamento di Washington nei confronti dell'Italia pensiamo soltanto alle elezioni del 1948 quando appunto la CIA ha fatto di tutto per far vincere la democrazia cristiana e sconfiggere il fronte il fronte popolare per cui appunto la situazione italiana è tutta particolare l'Italia non ha non ha mai avuto un tribunale di Noriberga non ha mai consegnato alla Jugoslavia i criminali di guerra anzi non ha mai praticamente neanche processato questi criminali di guerra per quanto ne conosciamo il nome e il cognome e vi dico dato che ho studiato moltissimo per questo libro sui partigiani vi assicuro ho studiato moltissimo quello che hanno fatto Roata Robotti e altri generali italiani appunto dei Balcani e sono cose semplicemente atroci purtroppo questo è è stato dimenticato è stato in qualche maniera cancellato e a mio avviso l'Italia deve recuperare questa consapevolezza di sé perché solo in questa maniera può creare una società veramente matura nascondersi dietro la parola di italiani non porta da nessuna parte gli italiani devono appunto accettare anche la loro parte delle colpe in questa vicenda che è una vicenda è una tragedia europea attualmente guardate secondo me nessuno è mondo nessuno è senza peccato in questa tragedia europea esatto sì perfettamente è esattamente così il pensiero che mi viene spesso è che in realtà negli ultimi anni da parte degli storici ci sia stato un grandissimo lavoro che però non riesce mai da noi a attraversare questa barriera mediatica per cui c'è da una parte la storia degli storici anche bravissimi divulgatori ma dall'altra non riesce a superare questo scoglio della divulgazione è assolutamente vero io se mi permettete vorrei ricordare l'incontro dei due presidenti di quest'anno Mattarella e Pachor si sono appunto come voi sapete incontrati a Trieste sono andati alla foiba di Basovizza che per la verità secondo me è vuota ma comunque e poi sono andati lì vicino al posto in cui sono stati fucilati antifascisti zoveni negli anni 30 hanno deposto le corone si sono tenuti per mano come Bitterrand e Korn tanto tempo fa 20 anni fa significando la volontà di una intesa e di un perdono ora voglio vedere che cosa la settimana prossima dirà Mattarella nel suo discorso di al criminale per ricordare appunto la vicenda dell'esodo e delle foile dopo questo incontro spero cambio registro e riconosca le sofferenze degli italiani ricordi le sofferenze degli italiani ma riconosca anche le colpe del popolo italiano benissimo avevamo una domanda che era parza e ora scomparza era piuttosto lunga non me la ricordo se Simone che ha la regia eccola qua devo mettermi a cari si si la leggo la leggo sui numeri altri storici le due diverse fare delle forme è possibile precisare quella dimensione siamo sicuri che le forme che gli scrivi sono a scrivere a un piano statale rispetto di essere ricordi siano tutti quelli che le loro raccontavano qualcosa e la prima di Belgrado ma e guardi come le dicevi e come dicevo ai miei ascoltatori il problema delle cifre è estremamente complesso io non trovo nessuna fonte che mi parli alla stessa maniera io ho fatto una ricerca nelle carte britanniche e anche in quelle americane gli inglesi e gli americani dopo il giugno luglio del 1947 1945 hanno fatto appunto un sondaggio piuttosto intenso per quanto riguarda questa problematica e sono arrivati alle cifre che prima menzionavo anche la mia collega Nevenka troja che ha visto invece i documenti jugoslavi cita queste cifre Pupo non so non so se Pupo con tutto il rispetto che ho per lui ha fatto una ricerca così sostanziosa non mi risulta che abbia visto i documenti americani oppure quelli jugoslavia però c'erano altre domande estremamente interessanti che in qualche maniera ho scordato ecco siamo sicuri che le fabbri di 1945 non sono ascrivibili a un piano statale titolista guardi no non c'era nessun piano tanto è vero che Kardel che era il funzionario comunista più importante in Slovenia diceva a Trieste bisogna arrestare i fascisti ma non fucilare bisogna trasportarli in Slovenia e lì verranno eventualmente giudicati purtroppo le cose sono sfuggite di di mano ci sono state ovviamente anche violenze 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 individuali personali in genere i come dire i soldati della quarta armata che erano per lo più dalmati e e serbi dell'entroterra dalmato e che avevano conosciuto le violenze italiane si sono lasciate in qualche maniera andare dall'odio io penso anche dall'odio antitaliano ma soprattutto antifascista che in quel caso a Trieste nel 1945 c'erano tutti quelli che nell'osno raccontavano qualcosa ma no a Trieste coloro che che nell'osno contavano qualcosa cioè nei servizi segreti erano a Belgrado erano a Ljubljana non sicuramente a Trieste a Trieste però appunto l'osno sicuramente nei servizi segreti ci sono stati hanno svolto un'attività anche piuttosto brutta perché si sono dati al saccheggio hanno rubato parecchio e dunque sicuramente non si sono comportati bene però erano sempre gente di poco peso un'altra domanda per la loro idea nazionalista ma gli eredentisti gli eredentisti vogliono l'Italia come dicevo l'Italia era per parecchi era molto attraente ma era attraente soprattutto perché era un baluardo nei confronti degli slavi gli slavi a Trieste e anche altrove diventavano sempre più forti si organizzavano sempre di più erano capaci di costruire nel bel mezzo della città un enorme palazzone il centro di cultura che voleva essere una risposta alla alla tese che Trieste fosse città solamente italiana mentre le altre minoranze triestine ce ne sono tante hanno creato a Trieste bellissime chiese c'è la chiesa serba ortodossa c'è la chiesa greca c'è una bella una bella chiesa gotica neogotica tedesca e così via poi c'è una sinagoga che è probabilmente la più grande e la più bella d'Europa gli sloveni cosa hanno creato? Hanno creato un centro di cultura per rispondere appunto alla esclusione cui culturale cui venivano condannati per cui dicevo erano pericolosi e in questo senso una parte della borghesia triestina bornava ovviamente verso l'Italia l'Italia era attraente quando si pensava che Trieste potesse diventare una specie di trampolino di lancia come ho detto per altri allargamenti nei Balcani come diceva Gianunzio bisogna seguire le orme dei legionari romani che chiaro era chiarissimo da non allora se non ci sono altre domande c'è ancora questa domanda ti ricordi ancora di molta stienza ma sì direi in parte in parte sì in parte no c'è diciamo una buona fetta dell'opinione pubblica che è contraria al comunismo e contraria a Tito demonizza demonizza tutto però d'altro canto bisogna dire la realtà il socialismo il socialismo jugoslavo era differente dal socialismo sovietico aveva effettivamente un volto un volto umano io sto mi accingo proprio a scrivere un libro un nuovo libro su questo tema alla ricerca del socialismo dal volto umano e effettivamente era così molti in Jugoslavia sotto Tito vivevano bene magari a causa di prestiti all'estero e degli aiuti americani e sovietici e così via però insomma la sensazione che il socialismo jugoslavo fosse sicuramente meno opprimente di quello sovietico che le frontiere erano aperte si poteva andare a lavorare all'estero la vita intellettuale era piuttosto era molto vivace e piuttosto libera non voglio dire che in Jugoslavia non ci fosse la dittatura c'era la dittatura però non era né la dittatura di Stalin e ancora meno e anche non la dittatura di Khrushchev o di Breschiev certamente poi anche voglio dire Tito alla fine aveva questo ha conservato anche questa grande diciamo importanza anche per appunto per aver liberato il paese da nazi sì Tito è interessante sicuramente dopo la guerra Tito ha impostato un regime di tipo staliniano ma dopo aver litigato con Stalin nel 1948 gli Jugoslavi cambiano completamente il registro e impostano due politiche che sono estremamente interessanti cioè l'autogestione si cerca di dare la gestione appunto delle fabbriche agli operai e il non allineamento il fatto di scoprire le masse popolari dell'Asia e dell'Africa e di dire la differenza cioè il problema di oggi non è tanto il conflitto fra est e ovest il problema di oggi è il fatto che il nord è ricco e il sud è povero e finché non supereremo questo problema non ci sarà pace nel mondo credo che è un'idea ancora molto molto valida e estremamente attuale perfettamente ragione anche perché poi sarà quel contesto particolare di lì a pochi anni successivi vedrà protagonisti altri paesi che avranno poi le stesse le stesse le stesse ecco questo questo aspetto è interessante perché io credo nella polemica poi sulle foibe e sulla questione non ci sia più la consapevolezza del fatto che Tito fosse non allineato e quindi del contesto in cui storicamente era rispetto all'Unione Sovietica e l'importanza che appunto la Jugoslavia assume nel contesto della guerra fredda ecco è assolutamente vera si dimentica in Italia che la Jugoslavia era un baluardo dell'Italia la Jugoslavia se 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 l'Unione Sovietica avesse attaccato appunto in fase della Jugoslavia l'esercito jugoslavo avrebbe avrebbe combattuto anche per l'Italia per la salvezza dell'Italia esatto questo è un aspetto importante anche per rammentare che poi alla fine la storia è sempre complessa e va studiata nella complessità e non non abbiamo esaurito le complessità non abbiamo esaurito le complessità ci sono tante sfumature ancora di cui bisogna parlare esatto c'è un'ultima domanda poi direi professore che la la lasciamo libero perché ci ha detecato sì mi chiede Lucio mi chiede appunto se Arbe sia più grave delle forebe come sapete Arbe è un'isoletta molto bella vicino al fiume dove i fascisti hanno organizzato un campo di concentramento in cui venivano chiusi soprattutto sloveni in primis donne e bambini in questo campo di fiume e di Arbe si moriva di fame circa 1500 persone e come dicevo soprattutto donne e bambini ma anche anche gli uomini soffrono la fame sono morti appunto di fame per una politica di annientamento che era mirata ora io non direi non direi che la cosa fosse peggiore delle forebe in qualche maniera si inserisce in questo discorso di bestialità che ha contaminato l'Europa durante la seconda guerra mondiale e alla fine della seconda guerra mondiale questo l'aspetto bene io direi professore che noi la ringraziamo e la lasciamo volentieri libera perché ci ha dedicato tantissimo tempo e ha fatto una lezione davvero importantissima grazie grazie a voi io spero io spero di venire un giorno a Montelupo eh no deve venire non solo a Montelupo la Toscana mi manca tantissimo le dico e la Toscana mi manca moltissimo e a Montelupo come primo comune poi e ricordo a tutti questa diciamo la conferenza del professor Pievec e Pievec è disponibile su Youtube da domani da subito da domani lo stesso indirizzo della storia per tutti stateci dietro perché nei prossimi mesi cercheremo di organizzare altre iniziative ci sarà Carlo Greppi e altri altri storici sperando sempre di portare soprattutto la nostra volontà è quella di portare la conoscenza lo stato dell'arte della ricerca scientifica in maniera divulgativa ma in maniera seria approfondita per sottrarre diciamo la storia contemporanea all'uso ormai divenuto patologicamente strumentale che soprattutto in Italia rispetto a altri paesi ha assunto caratteristiche di banalizzazione e anche di riduzione che non fa onore a un paese come il nostro che ha avuto grandi tradizioni storiche di storici e sembra siano dimenticati un po' da tutti anche soprattutto dai politici anche da quei partiti che spesso erano forse anche troppo storicisti ma che paiono aver dimenticato anche completamente la loro formazione culturale d'una volta diciamo ecco se si pensa a qualche decennio fa io ringrazio ancora nuovamente il professore spero davvero di rivederlo questa volta di persona sperando che si esca da questa situazione ringrazio ringrazio tutti quelli che erano con noi stasera e alla prossima grazie professore grazie grazie